E' stato fermato mentre si masturbava ubriaco nella propria vettura. Il 45enne è ritenuto il responsabile delle gomme squarciate a una ventina di auto in sosta nella notte del 9 gennaio. L'uomo aveva preso di mira le vetture parcheggiate in via Mura Auguste, in piazzale Malatesta, via Giulio Cesare, via Nazario Sauro e nel parcheggio del cimitero in via della Giustizia. Dopo le denunce dei proprietari sono subito scattate le indagini da parte del commissariato di Fano diretto da Stefano Seretti. Anche grazie all'esame dei filmati, dell'impianto di videosorveglianza, gli agenti sono riusciti a individuare il sospettato e la vettura che utilizzava per i suoi spostamenti. Così lo hanno seguito a distanza fino al centro storico. A quel punto il conducente, parcheggiato il mezzo e incurante dei passanti, ha iniziato a toccarsi le parti intime. L'uomo è stato bloccato e identificato. Mentre all'interno del veicolo è stato rinvenuto un paio di forbici, sulle cui lame risultavano esserci ancora dei residui di un materiale gommoso, a prima vista, compatibile con la composizione degli pneumatici. Inoltre è sentito un forte alito vinoso e i poliziotti lo hanno sottoposto agli accertamenti alcolemici ed è risultato essere oltre i limiti previsti dal codice della strada. Il 45enne è stato denunciato per i reati di danneggiamento di porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere e gli sono state contestate le violazioni amministrative di atti osceni in luogo pubblico e guida in stato di ebrezza, con il contestuale ritiro della patente. Inoltre è stato segnalato al servizio di salute mentale per gli approfondimenti medici del caso ed è stato munito di foglio di via obbligatorio emesso dal questore di Pesero Urbino con divieto di rientro nel comune di Fano. Ora sono in corso ulteriori accertamenti al fine di appurare l'eventuale coinvolgimento dell'uomo in altri atti vandalici messi a segno nel mese di dicembre a Fano sempre sulle auto in sosta.